Per la città impegno, per me è una giornata come un'altra, sto qua a lavoro, questa città ha bisogno di tanto tanto lavoro. Questo è l'aspetto più bello del fare il sindaco di Napoli, l'orgoglio di essere sindaco di questa città bellissima, straordinaria e così complessa che va ripagata con un impegno quotidiano senza mai fermarsi. E quindi oggi è il mio compleanno ma è una giornata di lavoro come le altre.